I allenamenti sono molto importanti perché danno già un clima di grinta, di voglia di fare. C'è chi dice che comunque vada ci sarà l'esonero di Benitez, la senti di smentire? Ma per favore, dai, c'è fiducia sì, si cerca di dare il meglio e speriamo che gli attori siano tutti in forma e poter ripetersi quello che ha fatto anche l'anno scorso. Sì, di Bremic sapevo che era forte, si sa che di Bremic è forte, quindi conferma quello che è sempre pensato, infatti che non l'abbiamo venduto, abbiamo venduto una cifra che era pari a quella che era la sua forza. Lei consente del recupero di Giulio Cesar che ha detto che vi è pronta anche per la semifinale? Sono contentissimo.